dei guardi non posso parlare con te in privato perché quanti di voi volevano parlare con me in privato c'è qualcuno risponde su instagram ma gli umani siete davvero tanti c'è non riesco a rispondere a tutti cerco di rispondere ma io già faccio 10 o 12 ore di live ok 9 ore 8 ore poi mi devo mettere pure su instagram poi ma già metto pure coppo discord poi ma già metto pure coppa whatsapp poi ma già metto pure indoletta avveno film e ovesci male una chiamata quando ma già fa oggi e ma ci fa una bella chiamata io mi chiamo a tre quattro capisce a me capite a me e mi chiamata e ha già chiamata e che mi fai qua i pigli e mi chiamano fottuto cazzo non me ne fottuto proprio ha così da fare un po po va fatto buttare i pigli subito ha fessi una bella americina per tutte cose ha fessi una mericina per tutte cose ha fessi una mericina per tutte cose ed è l'imperatore